Allora capitano, oggi partita deludente, Ternana-Molle che è arrivata sistematicamente in seconda sempre su tutti i palloni dal primo al novantasesimo, come è potuto accadere? A Perugia era scattata la molla a un certo punto della partita, oggi questa molla non si è vista, come mai doveva caricare il derby, invece? Sinceramente a botta calda non so neanche cosa sia successo, devo essere sincero, il fatto sta che oggi non siamo pervenuti, la verità è quella, siamo sempre arrivati secondi sotto tutti i punti di vista, sotto il punto atletico, tattico, tecnico, oggi è una partita veramente brutta, mi ha fatto molta fatica, loro hanno gestito bene la partita nei 90 minuti, complimenti a loro, però non possiamo essere questi, anche perché adesso non i punti, le vittorie a noi servono moltissimo e non siamo questi, come dici te c'è stata un'involuzione tra la settimana scorsa e questa, notevole, però così ripeto, a botta calda non riesco a capire il perché. Purtroppo c'è stata un'enorme delusione anche da parte dei tifosi che oggi erano qui a seguirvi, no, erano 9500. Un peccato anche perché, cavoli, 10.000 persone non è che li vedi tutti i giorni, dispiace, dispiace soprattutto anche per loro perché è normale, quando hai un pubblico di 10.000 persone che ti incita, è normale, noi ce l'abbiamo messa tutta perché non è che posso dire che non ce l'abbiamo fatta, però abbiamo fatto molta molta fatica oggi, la verità è quello. Forse anche il gioco di Pillon, una squadra corta che vi ha levato gli spazi, sistematicamente andavate a picchiare contro il muro per vie centrali, forse avete usato poco anche le fasce e poca consistenza sulle corsie laterali. Sicuramente, sicuramente anche quello, loro l'hanno preparata molto bene, ci hanno chiuso su tutti gli spazi, dappertutto, in tutto il campo, facevamo fatica a ripartire e facevamo fatica comunque a gestire la palla. Il peso va più in una giornata, una giornata no, ma la cosa positiva è che giochiamo già martedì e quindi già da domani mattina ci si può allenare pensando alla partita di martedì e accantonando questo, come abbiamo fatto con le altre. Forse sentivate un po' la pressione dopo... No, no, non penso, no, anzi. Per dare, diciamo così, un alibi, ma un... No, no, ma va no, anche perché adesso sappiamo che comunque, cioè noi non possiamo aver mezze misure adesso, cioè nel senso adesso noi ci serve solo la vittoria, la verità è quella, noi dobbiamo solo puntare a vincere ed è quello che dobbiamo fare da martedì fino all'ultima di campionato, anche perché la classifica è quella che è, però siamo sempre lì, quindi bisogna cercare di lottare fino alla fine, di essere quelli di settimana scorsa e sicuramente non quelli di oggi. Mancano quattro partite, quindi ci vorrà tutta la grinta. Quella delle quattro partite precedenti a questa, bisognerà fare parecchi punti perché altrimenti stasera c'è poco a dire da fare, dispiace dirlo, ma siamo con un piede e mezzo in Serie C, non voglio nemmeno nominarla questa cosa. No, ma infatti sinceramente non voglio nominarla neanch'io perché come ho sempre detto finché non c'è la matematica preferisco non parlare di questo, però come di città dobbiamo ritornare a essere quelli dell'ultimo mese, non sicuramente quelli di oggi, ma sono convinto che già da martedì sarà un'altra partita, anche perché al di là dell'aspetto psicologico e del fatto che dobbiamo vincere sempre, noi dobbiamo salvarci, dobbiamo giocare da squadra che si vuole salvare e dovremo farlo già da martedì. Però paradossalmente la Ternana quest'anno ha steccato con quelle squadre che lottano insieme a lei per la salvezza, a Ascoli, insomma ce ne sono state tante, Virtus Santella, tranne forse il Novara, e invece ha giocato meglio con le squadre che lottano per andare in Serie A oppure a playoff. È un auspicio questo, speriamo che sia di buon auspicio per martedì, visto che il Parma è una squadra che lotta per la Serie A. Ha perso però anche oggi la Provercelli, quindi? Eh, lo so, ma la Serie B è questa, non c'è niente di scontato, è bello anche per questo, quindi martedì sicuramente sarà un'altra partita, non quella di oggi. Poi abbiamo il Palermo e due, Provercelli o il Lino. Pensare a martedì, dopo le altre ci penseremo dopo. Quindi il messaggio finale qual è? Che voi non demordete? No, quello mai, anche perché, ripeto, non possiamo, non possiamo permetterci di mollare sotto tutti i punti di vista, anche perché abbiamo fatto, mi ha fatto tanto nell'ultimo mese comunque per riagganciarci a questo treno e sarebbe un peccato mollare adesso. In bocca al lupo. Crepi, in bocca al lupo. Ciao Mario. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.